Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su Control Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio, siamo qui nella zona del settore logistico Dobbiamo andare a trovare Marshall Trovare delle risposte perché abbiamo riferito che stiamo cercando anche il nostro fratello Qui dove si va E il bagno delle donne Eh noi siamo delle fanciulle quindi in teoria possiamo Ok no, non c'era niente di nascosto qua nel muro Ok Qua si può scendere Ma dove andiamo se scendiamo A scendere di qua dove si va Ah molto semplicemente in un corridoio Ok Quindi da qua noi saliamo su Ma sopra di là Qui c'è qualcosa Beh allora lì c'è una porta Eh già, aspetta, 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 aspetta Che lì ci sono dei fogli Che mi sa che ci sono dei documenti Con cui poter interagire No, allora c'è una porta lì e una porta a cui Ah ok, portano entrambi qua Qualcuno ha bisogno di aiuto laggiù C'è un uomo a terra Ma laggiù dove? Cioè dove l'hai visto tu l'uomo a terra? Allora aspetta fammi vedere qua E questa vede cose? No, ok Qua torniamo su Eh quindi dobbiamo andare sopra ancora Permesso? Allora di lì Torniamo indietro Cioè dove è sto uomo a terra? Io non l'ho mica visto Aspetta qua c'è uno Eccolo Aspetta però prima Io sono qui C'è un po' che ci ha fatto? Ah, ho avuto un piccolo Il nome è Horowitz Io... Oh! Ah! Il va bene? Non mi guarda come così Non mi guarda come così Io sono bene Ma Wells è ancora in là Hai bisogno di lui Chi è Wells? Il mio squad, stiamo cercando un item alterato a riuscire, andiamo attraverso l'alternità. L'alternità? Un'alternità. Il buro ha scegliato l'alternità da anni fa perché di tutte le tue l'alternità. Stiamo attraverso l'alternità dentro, ma la forma che si tratta, non siamo pronti. Mi e Wells erano i nostri quelli che riuscire a la motel corte. Sto dietro a me, ma non è mai riuscito a questa parte. Sto dietro a me, ma prima devi arrivare a un medico. Wells è il medico, per favore, devi arrivare fuori là. Sto bene, davvero. Roop potrà riuscire a me dopo. Sto bene, ma sarò tornato per te. Sì, spero. Usa l'alternità di motel corte, dovrebbe arrivare a te nelle tue l'alternità. Scusate, l'alternità. Ok, ma questo shelter non possiamo... ah no, sì, adesso sì. Una questione di tempo. Eh, ma questo è secondario? Allora, noi dovremmo trovare Marshall. Però vabbè, facciamola. Se non richiede troppo tempo, la potremmo anche fare. No, ok, è una questione di tempo attiva. Allora, il settore logistico. C'è qualcosa qua? No. Allora, ho girato e rigirato, ma però ho notato sta cosa qua. Ecco qua, per andare all'hotel. Ok, questo è... No, non si apre, proviamo ad attraversare qua. Ok, quindi possiamo... Ah, vedi. Aspetta, magari c'è qualcosa di... C'è una cosa di apre... Ah, che è sta cosa qua degli orologi? Si fermerà? Boh... Vediamo se cambia qualcosa ancora. Qua adesso si è aperta questa. Qua adesso si è aperta questa. Che caspita però sti orologi. Quindi intendeva qui sti orologi? Non è che devono combaciare le ore. Da... 6, 7, 8... Ok. Però questo segnale 3. Ok, ok. Aspetta, questa che ora è segna Le La lancetta piccola Sul 7 E la lancetta lunga sul 5 Sul 7 Eh, vabbè, ma Oh, vibra però ogni volta Che mi avvicino Le 9 No, 10 E un quarto Ma non mi fa interagire però Oh Non mi fa interagire sull'orologio Forse Oh E che diamine Allora qua per il momento C'è solo questa Però non mi fa interagire Allora dunque Le 2,5 Eh, però neanche qua mi fa interagire più Aspetta, non è che Io in questo qua Devo vedere che ore sono Poi in quel È un bordello Questo livello degli orologi Sono le 4 Quattro Quattro Quasi 12 Ok Quattro Perché qua adesso non mi fa interagire Vedi, a volte non mi fa interagire Alle 7 Cioè perché Adesso qua mi fa fare Non c'è niente Su cui posso Che fastidio sta roba Mi segna le 12 E 10 Vediamo un po' Ok Ok Adesso ce ne sono due La chiave Ok E adesso abbiamo Questa Qua Uno Due Tre Trova il medico Devo Trovarlo Quse Voi memories Tu Ra O S S S Vai, sparisci Ok, adesso purifichiamo Ok, vediamo un po' dove può essere questo medico Forse è lui? Forse è di... No, questo è lo specchio Sei tu? È l'unico vivo Posso interagire con te? È l'unico vivo mi chiede per andare a procurare per te. Deve essere Horowitz. Gladio fuori. Stai tornando per aiutare i altri. Fai un lavoro di questo, chiaramente. Hai provato. Questo è sufficiente. Horowitz per il vostro aiuto. Come stiamo fuori? Dobbiamo andare all'interno. Possiamo trovare altri sovrappositi quando andiamo. Dobbiamo riuscire. In che modo? Follow il sangue. Segui la scia di sangue? Andiamo ad andare di qua? Dai muoviti però! Noi. Noi. C'è la scia di sangue. Questa è stata una scena di giudizio. Questo era un'attività di giudizio prima che si trattava. Le forze in giudizio aveva avuto un'attività di chiudizio. E iniziò ad andare a fare un'attività di giudizio. Ora il giudizio è scena di giudizio. Questa è un'attività di giudizio. Questa è un'attività di giudizio. Questa è un'attività. Questa è un'attività. Sparisci 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 anche tu Eccolo Non capisco perché c'ho questa, adesso di arma Ok E adesso Eh ma per aprire le porte Come vado ad aprire le porte Scusami Ma non so come aprirle Queste porte adesso Eh Sai come fare tu? Eh perché qua Allora Vediamo un po' Come caspita si fa qua Perché Ci deve essere un modo per entrare qui dentro Ma non Non lo so Come ci vado Perché devo aprire la porta Ma Io qua non vedo niente che possa Aiutarmi ad aprire la porta Forse da qua Porca miseria Andiamo Oh c'è altra roba Madonna c'è altra gente Oh c'è altra gente E vai Ok Ok Ma così Però mi sa che c'è ancora qualcuno Sopra Ok E la madonji Porca miseria Però Oh c'è altra gente Oh mi sa che c'è ancora qualcuno Oh mi sa che c'è ancora qualcuno Questo qua che si muove volando E' un po' un macello E' andato su Finito di volare Ok Dai fratello vieni in su Ok abbiamo visitato tutta no? Qua non mi pare ci siano cose Fammi esplorare un attimo C'è qualcosa qua no? Non mi pare Non mi pare Ok Aspetta ma qua c'è uno shelter ma non lo posso usare Che due balli però non aprire quello shelter Ok Vieni qua Poi di qua Fascicolo Ok poi dove si va di là? Dove ti devo scortare ciccio? Qua non vedo altre porte Perché gli NPC non mi dicono già dove devono Aspetta là c'è una cosa Qua sono un sacco di orologi ma Aspetta lì c'è del materiale Aspetta Non so dove devo andare Store logistico Ok Qui c'è lo shelter Qua ci sono i bagni Ok Quindi adesso io devo andare Sopra Fammi andare su Però più su di così io non posso andare A meno che io non cammini sopra questi orologi Sì ok posso andare di qua vedi No ok possiamo andare avanti Siamo arrivati Punto di controllo Ok Continuiamo ad avanzare Ok Ok Ci sei? Dai Oh ma quante missioni ancora Oh Questo mi sa che verrà un bel video lungo Ma qua siamo tornati indietro Beh dai l'abbiamo riportato dove doveva stare Settore logistico Dai ci siamo Settore logistico è questo Settore logistico C'è qualcosa di wronge, Will. C***o. Arvance. Oh, no, no. You hit, motherfucker, sucka! Grazie a tutti. Dai che ci siamo, dai che siamo a metà. Guarda che c'è una mira, l'amico qua. Cioè tutti i danieri li stiamo facendo noi. Guarda che c'è un'amico. Guarda che c'è un'amico. Perché è proprio qua, devi mettere, non lo so io. Guarda che c'è un'amico. Guarda che c'è un'amico. Vabbè, comunque vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... Alla prossima! Ciao belli!